Sono di Muggia, sono per Muggia. Votare Obiettivo Comune per Muggia, votare per me, significa avere a cuore Muggia, la nostra Muggia, perché vogliamo rivederla partire, vogliamo vederla vivere, vogliamo un futuro per Muggia, voglio un futuro per Muggia. Quindi il 5 di giugno sulla scheda elettorale ricordati di Obiettivo Comune per Muggia, perché a Muggia noi ci siamo e ci mettiamo la faccia.